Padova è una città universitaria. Vogliamo le studio aperte fino a tardi. Voglio vivere la mia città potendovi accedere liberamente, senza l'ansia degli orari, delle multe e dei parcheggi. Voglio una città dove i commercianti possono lavorare senza la preoccupazione della delinquenza. Voglio sentirmi libera di camminare per le strade della mia città senza dovermi guardare le spalle. Noi siamo i giovani di Padova. Il cambiamento inizia da qui.